Luigi Scaglia, siete ormai pronti per partire? Domenica, quindi... Sì, mai siamo... si va a pochi. Dove si va quest'anno? A rifugio Avis de Giorgio, già chiamato Mondovì, proprio sopra Mondovì, un rifugio che è già stato sperimentato l'anno scorso da Montagna Ragazzi Cruzone, c'è la sezione Elementari, in cui ci hanno fatto una buona pubblicità, per cui abbiamo deciso di copiare loro, insomma, ecco. E quanti siete quest'anno? Siamo 35 ragazzi, sono 35 ragazzi, che praticamente è il numero maggiore negli ultimi dieci anni per la nostra sottosezione, dopo appunto gli anni un po' più bui, così che ci eravamo aggregati a Montagna Ragazzi Cruzone, c'è sempre appunto negli ultimi cinque anni una risalita, poco alla volta, per cui fino ad arrivare a queste cifre che per noi sono importanti. Quanti sono gli accompagnatori? Sono sei accompagnatori adulti, quattro maschi, due femmine, una infermiera. Ecco, ci sono anche dei giovani tra questi accompagnatori? Sì, sì, giovani che prendendo la palla al bazzo, visto come erano appassionati e avevano voglia di continuare, di questi, diciamo, sono sette, cinque, cinque sono già al terzo anno, al terzo anno di prova, così come aiuto accompagnatori, e due, sono quindicenni, sono all'inizio, sono all'inizio, però promettendo bene come gli altri, così si cerca di tenere un po' coltivato il vivaio per il futuro, diciamo, del ricambio. Ecco, Vai Colcai è un'iniziativa importante per voi, perché con questa tentate anche un po' di seminare la passione per la montagna. Per loro è una vacanza completamente diversa, pur abitando fra le montagne, così, però di solito si ha in mente il mare o passeggiatine, magari più leggere, o altri sport. Comunque stare lontani da casa, specialmente anche chi ha nove anni, dieci, così, per una settimana è una nuova esperienza, è una cosa tutta particolare. Chiaramente sono in compagnia e ci possono essere i risvolti negativi, ma soprattutto sono quelli positivi, c'è l'aggregazione, giochi in compagnia, in società, è così, e si allenano praticamente anche al CRE, perché poi quando tornano la maggior parte di loro frequenta il CRE, quindi dopo la scuola così è un altro periodo di vacanza, anzi, qualcuno magari ci ha messo dentro anche il mare, in famiglia, prima di partire per questa esperienza. Ecco, ricordiamo che con Antenna 2 vi seguiremo con dei collegamenti. Sì, c'è questo servizio, appunto, noi ringraziamo sempre l'imittente che ci fa questo favore, in modo che specialmente, come negli ultimi anni, con le tecnologie che c'è grazie a Inter, così si possono anche mandare le foto della giornata, in modo che i genitori durante il servizio del telegiornale, posso vedere già un po' i loro figli così, diciamo, quasi in tempo reale, insomma, ecco. Perfetto, quindi buono viaggio. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.